Allora, prima di me c'è stato un altro e mi ricordo che il nome gli aveva dato a questo locale. Come si chiamava quello che c'era? Il pub, prima lo tenevo io. Quindi di fronte all'attuale pub Il Tramunto. Era il mio dall'inizio, poi venne mio cognato a Bonanevo, il signore si è chiamato. E il primo ristorante l'ho messo io giù, prima si scendeva dove adesso stanno i tavolini. C'erano due scale che si scendeva giù. Prima di me c'era l'ippocambo, il nostro canguro. Però prima di me c'era l'ippocambo che stiede solo un anno, non fece fortuna. Chi erano i proprietari? I proprietari, ma sempre Mataresi. Sempre Mataresi. Armandino. Sempre Armandino è stato il proprietario di quella... Dove adesso c'è il palazzo di Armandino Cinema. Il cinema delle vittorie. All'interno era tutto un terreno, una campagna. E io praticamente nel 64 ho aperto questo ristorante che si chiamava Cancuro. Sperando che insomma... E mi ricordo che tenevo un cliente che manca fa la posta chi era. Un medico. No, a parte un medico. Il lugandante bolognese, come si chiama? Ah, no, Lucio Dalla. Lucio Dalla. Lucio Dalla era stato un tuo cliente. Mi ricordo, Lucio Dalla era un cliente nostro e in particolare mi ricordo che lui voleva sempre la sogliola. Guarda che mi ricordo. La sogliola e io la dovevo sfinare. E lui stava così a 71 coppia da 76. Cioè mentre si spinava la sogliola e magari non dico che ce l'aveva ammoccata ma comunque si aveva spinata la sogliola. Esatto. E ci dovevo dare. E poi quando insomma intorno al 64-65 si liberò questo locale e me lo presi io e dall'epoca siamo stati sempre noi. Riccato nel locale camminava perché c'era il padre, c'erano cugini, parenti che aiutavano loro. Pensate forse i primi no? Che poi o c'era già qualche altra rosticceria che lavoravano? Allora fuori io ti spiego io che cosa c'era? Non c'era niente. La farmacia non c'era, stavamo a panetteria. Coppa Santuvida, Salilla. Là c'era la farmacia, qua non c'era niente, qua era tutto terreno. E poi come locali, con locali non c'era quasi niente, c'era Maria Zibacchiello che sarebbe la piazza Barbaria, Zibacchiello. Maria Zibacchiello. Il primo street food diciamo così. Sì, diciamo che noi ci possiamo ritenere i primi assoluti a aver creato questo lavoro. Assoluti anche sull'isola Dischia, non solo a Forio. A Forio è negato che non c'era proprio niente. A Caglia, a Mantorone, si è nostra in una tre o quattro boutique. Che roba si vendeva nei sacchi. Sfus. La rosticceria nasce prima o dopo il cinema? Perché questo è importante. La rosticceria nasce prima del cinema. Io quando già ero aperto mi ricordo che hanno cominciato a fare le fondazioni. Io mi ricordo bene. Sono stato fiero di quello che ho fatto e sono anche contento di aver lasciato per stare un po' più libero e insomma riposarmi un poco. Riposare poi chiaramente ne abbiamo parlato nel privato e le difficoltà sono aumentate, i costi eccetera. Anche per questo comunque non solo a me ma a tutti quanti, che io sento pure per televisione parlare, grazie a grosse aziende che hanno possibilità eppure stanno in difficoltà. Anche i piccoli locali vanno in difficoltà perché se la bolletta di luce il mese scorso l'ho pagato per dire 140 e ora mi arriva a 400 vuol dire che qualcosa non fila. Allora non si può... Noi siamo contenti e ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto. Io volevo mettere un cartello però l'ho fatto almeno. Le ringrazio adesso. Io ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto la rosticceria, a me, a Felina, a Enzo. Insomma diciamo noi ci siamo prodicati di fare il possibile per servirli, per dargli le cose buone e loro ce l'hanno fatto capire che le cose che facevano erano buone perché sono clienti che sono stati anni con noi. Io mi sento di ringraziare a nome di tutti i foriani, di tutti i turisti per quello che voi avete rappresentato nel paese che sicuramente è stata una bella pagina. Certamente, noi pensiamo di aver fatto cose buone e poi come sapete, come sanno, mi sono dedicato anche agli altri facendo insomma... Sei stato sempre attivo, sempre attivo.